E' andata a fuoco un'auto questa mattina poco dopo le 10 in via Giuseppe Verdi a Verona a pochi passi dal cinema Alcione in zona Santa Croce. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme che uscivano dal vano motore e riportato la situazione alla normalità in pochi minuti. Grazie per la visione!